buongiorno e benvenuti nel mio canale il mondo dell'uncinetto oggi vi spiego come realizzare queste bellissime scarpine da bambina come potete vedere sono molto particolari in quanto ho realizzato una scarpina color fucsia e un finto calzino dotato di merletto color bianco ho rifinito la scarpina con questo giro di bianco applicato una perlina per chiuderla ed infine ho realizzato questo merletto veramente molto carino e delicato ho realizzato una taglia 3-6 mesi ma nel corso del video vi darò le indicazioni per realizzare sia una taglia più grande che una taglia più piccola inoltre queste scarpine sono adatte sia al periodo invernale che a quello estivo quindi le potete realizzare sia di lana che di cotone prima di lasciarvi alla spiegazione vi invito ad iscrivervi gratuitamente al mio canale a lasciare un like se vi è piaciuto il progetto e mi raccomando non vi dimenticate di attivare la campanella ecco l'occorrente per il progetto di oggi un gomidolo di lana soffice baby color bianco questo gomidolo pesa 50 grammi ed è lungo 175 metri un gomidolo dello stesso identico filato nella variante fucsia un metro da sarta un uncinetto numero due due marca punti due perle ed infine una forbice prendo il filato fucsia realizzo un cappetto inserisco l'uncinetto al suo interno e carico 18 ho lavorato le 18 catenelle ho lavorato le 18 catenelle adesso vi dico quanto misurano ho una lunghezza di 5 centimetri e mezzo questa va bene per la mia taglia ossia 3-6 mesi se volete realizzare una taglia più grande una taglia più piccola vi consiglio di rimanere su un centimetro e meno un centimetro in più adesso lavoro 3 catenelle carico il filo sull'uncinetto conto 1 2 e 3 catenelle entro nella quarta e lavoro un punto alto carico il filo sull'uncinetto e percorro tutta la catenella tranne l'ultimo punto a punto alto quindi nel mio caso lavoro 16 punti alti se avete un numero diverso di catenelle mi raccomando vi dovete fermare nella penultima catenella carico il filo sull'uncinetto entro nel punto successivo e lavoro un punto alto e continuo così fino ad arrivare alla penultima catenella ecco qui ci sono arrivata quindi ho lavorato 16 punti alti adesso rimane l'ultima catenella da lavorare cosa faccio carico il filo sull'uncinetto entro in questo punto e lavoro un punto alto carico il filo sull'uncinetto entro nello stesso identico punto e lavoro un secondo punto alto carico il filo sull'uncinetto rientro nello stesso identico punto e lavoro un terzo punto alto questo passaggio è identico per tutte le taglie come potete vedere ho lavorato 3 punti in questo ultimo punto carico il filo sull'uncinetto e lavoro un quarto punto alto carico il filo sull'uncinetto rientro nello stesso punto e lavoro un quinto punto alto questo passaggio è identico per tutte le taglie quindi nell'ultimo punto dovete lavorare 5 punti alti tutti insieme nello stesso punto adesso ripeto come dall'altro lato i 16 punti alti quindi se avete un numero di catenelle diverso dal mio regolatevi in base al vostro numero di punti alti alla fine deve rimanere un punto da lavorare mi raccomando non vi dimenticate di inserire mano a mano anche il filo iniziale in modo tale da nasconderlo ecco qui ho lavorato i miei 16 punti alti e adesso mi rimane l'ultimo punto da lavorare come potete vedere ho nascosto il filo e non si vede niente allora adesso carico il filo sull'uncinetto entro nell'ultimo punto disponibile e lavoro un punto alto carico il filo sull'uncinetto rientro nello stesso identico punto e lavoro un punto alto quindi per qualsiasi taglia questo passaggio è uguale adesso conto 1,2,3 cadenelle e chiudo il giro nella terza cadenella con un punto bassissimo mi raccomando dovete chiuderlo nella terza cadenella e non nel primo punto alto ok il giro è terminato adesso posso andare avanti lavoro una catenella entro nel punto successivo quindi non nel punto dove mi sono alzata con la catenella ma in quello successivo e lavoro un punto basso adesso marco questo punto basso ma per chi dovesse avere difficoltà lo potete inserire anche sulla prima catenella lavorata all'inizio in quanto quello rappresenta il nostro primo punto adesso rientro nello stesso identico punto dove ho appena lavorato questo punto basso e lavoro un secondo punto basso quindi in totale ho lavorato 3 punti i due punti basi e la catenella iniziale adesso entro nel punto successivo e lavoro un punto basso rientro nello stesso identico punto e lavoro un secondo punto basso questo passaggio è uguale per tutte le taglie adesso vado a lavorare 7 punti basso quindi entro nel punto successivo punto basso punto successivo punto basso per chi sta realizzando una taglia diversa dalla mia quindi ha un numero di catenelle diverse cosa dovete fare prendete il numero di punti alti lavorati nel giro precedente nel mio caso 16 sottraete 2 nel mio caso viene 14 fate questo numero diviso 2 rimane 7 quindi in questo modo so che devo lavorare 7 punti basso adesso che ho lavorato i 7 punti basso cosa faccio carico il filo sull'uncinetto entro nel punto successivo e lavoro mezzo punto alto carico il filo sull'uncinetto entro nel punto successivo e lavoro mezzo punto alto adesso carico il filo sull'uncinetto e lavoro 7 punti alti carico il filo sull'uncinetto entro nel punto successivo e lavoro un punto alto per chi sta seguendo una taglia diversa dalla mia dovete praticamente lavorare lo stesso numero dei punti basso che avete lavorato all'inizio poi per non sbagliarvi vi dovete fermare nel punto prima del primo aumento del giro sottostante ok ho lavorato 7 punti alti come vedete mi sono fermata nel punto precedente al giro di 5 punti tutti nello stesso punto adesso carico il filo sull'uncinetto entro nel punto successivo e lavoro un punto alto rientro nello stesso identico punto e lavoro un secondo punto alto ecco qui ho lavorato un aumento semplicemente adesso nei 4 punti successivi vado a lavorare un aumento quindi in totale devo lavorare 5 aumenti carico il filo sull'uncinetto carico il filo sull'uncinetto entro nel punto successivo e lavoro un punto alto carico il filo sull'uncinetto rientro nello stesso punto e lavoro un punto alto questo passaggio è uguale per tutte le taglie ecco qui vedete ho lavorato 5 aumenti adesso non mi resta che ripetere lo stesso passaggio fatto precedentemente quindi lavoro 7 punti alti carico il filo sull'uncinetto entro nel punto successivo e lavoro un punto alto carico il filo sull'uncinetto entro nel punto successivo punto alto fino ad arrivare a 7 punti alti poi se voi avete una catenella diversa lavorate lo stesso numero di punti alti che avete fatto prima una volta lavorati 7 punti alti entro nel punto successivo e lavoro mezzo punto alto entro nel punto successivo e lavoro mezzo punto alto entro nel punto successivo e lavoro un punto basso punto basso per un totale di 7 punti bassi adesso mi rimangono due punti da lavorare entro nel punto successivo e lavoro un punto basso rientro nello stesso identico punto e lavoro un secondo punto basso entro nell'ultimo punto disponibile lavoro un punto basso ho terminato il giro come potete vedere la soletta sta prendendo forma adesso non mi resta altro che chiudere il giro cosa faccio? entro nella catenella con cui mi sono alzata e chiudo il giro con un punto bassissimo mi raccomando dovete entrare nella catenella non nel primo punto basso ok il giro è terminato e posso continuare la lavorazione adesso mi alzo con 1 2 3 catenelle prendo il marca punto e segno la terza catenella carico il filo sull'uncinetto entro nel punto successivo e lavoro un punto alto carico il filo sull'uncinetto rientro nello stesso identico punto e lavoro un secondo punto alto carico il filo sull'uncinetto carico il filo sull'uncinetto carico il filo sull'uncinetto rientro nello stesso identico punto e lavoro un secondo punto alto carico il filo sull'uncinetto carico il filo sull'uncinetto carico il filo sull'uncinetto rientro nello stesso identico punto e lavoro un punto alto carico il filo sull'uncinetto carico il filo sull'uncinetto carico il filo sull'uncinetto rientro nello stesso identico punto e lavoro un punto alto carico il filo sull'uncinetto 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 adesso non mi resta altro che lavorare tutti i punti fino ad arrivare al primo prima dell'aumento a punto alto nel mio caso sono 16 punti alti proprio come nel primo giro voi regolatevi in base al vostro numero di catenelle punto alto, carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo, punto alto carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo, punto alto e continuo così ok, una volta lavorati i 16 punti alti cosa faccio? carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto poi rientro nello stesso ed antico punto e lavoro un secondo punto alto in questo modo lavoro un aumento adesso carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo, lavoro un punto alto carico il filo sull'uncinetto, rientro nello stesso ed antico punto e lavoro un secondo punto alto e continuo così per un totale di 10 aumenti, 8 più 2 iniziali 10, questo passaggio è uguale per tutte le taglie. Praticamente per ogni aumento che ho fatto nel giro precedente vado a lavorare un nuovo aumento. Ok, ho lavorato 10 aumenti, come potete vedere mi sono fermata nell'ultimo aumento, adesso ripeto lo stesso passaggio fatto in precedenza, ossia vado a lavorare 16 punti alti, per chi ha una taglia diversa regolatevi in base al vostro numero di punti alti. Come vedete devo lavorare gli ultimi 4 punti e cosa faccio? Carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Carico il filo sull'uncinetto, rientro nello stesso identico punto e lavoro un punto alto. Carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Carico il filo sull'uncinetto, rientro nello stesso identico punto e lavoro un secondo punto alto. E continuo così per gli altri due punti, ossia lavoro un aumento per ogni punto che mi manca. Quindi in totale ho lavorato quattro aumenti. Eccoli qui, uno, due, tre e quattro. Adesso tolgo il marcapunto, entro nella terza catenella e chiudo il giro con un punto bassissimo. Ho terminato anche questo giro e adesso posso procedere con il prossimo. Quindi mi alzo con una catenella che segno con il marcapunto. Adesso, semplicemente, lavoro ogni punto sottostante a punto basso. Quindi entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. E continuo così fino ad arrivare alla fine del giro. Mi raccomando, ricordatevi sempre che la prima catenella va considerata come un punto. Allora, come potete vedere, ho lavorato tutto il giro. Manca l'ultimo punto. Eccolo qui. Adesso cosa faccio? Tolgo il marcapunto e chiudo il giro con un punto bassissimo nella catenella. Ho terminato anche questo giro. Adesso vi dico quanto misura la soletta. La soletta misura 9 centimetri e mezzo. Per la taglia 3-6 mesi devo raggiungere un'altezza di 10 centimetri. Quindi dovrò lavorare un altro giro. Se state realizzando una taglia 0-3 mesi, vi dovete fermare ad un'altezza di 9 centimetri. Per una taglia 6-9 mesi 11 centimetri e per una 9-12 mesi 12 centimetri. Adesso mi alzo con una catenella che segno con il marcapunto e ripeto lo stesso passaggio di prima. Ossia per ogni punto sottostante lavoro un punto basso. Entro nel punto successivo, punto basso. Entro nel punto successivo, punto basso. Quindi continuo così fino ad arrivare alla fine del giro. Anche questo passaggio è molto semplice. Ok, come potete vedere sono quasi arrivata alla fine del giro. Quindi entro nel punto successivo, lavoro un punto basso. Adesso, come potete vedere, mi trovo a dover chiudere il giro. Cosa faccio? Tolgo il marcapunto, entro nella prima catenella e chiudo il giro con un punto bassissimo. Ecco qui, ho terminato questo secondo giro. Adesso misuro la mia toletta. Misura 10 centimetri. Quindi ho raggiunto la lunghezza da me desiderata. Adesso vi dico quanto misura anche di larghezza. Prendo la parte più larga. Misura 5 centimetri e mezzo. Allora, adesso cosa faccio? Mi alzo con una catenella, prendo il marcapunto e segno questa catenella. Prendo l'uncinetto, entro da dietro nel punto successivo a quello dove ho lavorato la catenella, logicamente. Entro nel punto successivo, come potete vedere ho una costina sull'uncinetto e lavoro un punto basso. In questo modo sto creando la parte per alzarmi e continuare la scarpina. Allora, come potete vedere qui dove ho lavorato il punto basso, adesso il punto successivo è diventato veramente molto piccolo. Io cosa faccio? Entro da dietro in quel punto piccolissimo, entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Ve lo faccio rivedere perché mi raccomando non dovete saltare questo punto che è diventato veramente molto piccolo. Quindi, entro da dietro in questo punto molto piccolo, entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Entro nel punto piccolissimo da dietro, entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Entro nel punto piccolissimo da dietro, punto successivo e lavoro un punto basso. Continuo così tutto il giro fino ad arrivare alla fine. Come potete vedere, come potete vedere, mancano gli ultimi due punti da lavorare, cosa faccio? Entro da dietro nel punto successivo, che è quello che diventa molto piccolo. Entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Mi rimane l'ultimo punto da lavorare, mi raccomando, entro da dietro, entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Mi raccomando, dovete avere lo stesso numero di punti che avevate nel giro precedente. Adesso non mi resta altro che chiudere il giro, quindi entro nella catenella e chiudo il tutto con un punto bassissimo. Adesso mi alzo con una catenella che vado a segnare sempre con il marca punto e semplicemente lavoro tutto il giro punto su punto a punto basso. Quindi entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Entro nel punto successivo e lavoro un punto basso e continuo così fino ad arrivare alla fine del giro. Mi raccomando, dovete avere sempre lo stesso numero di punti bassi del giro precedente. Nel mio caso sono 70 punti. Come potete vedere ho ripassato tutto il giro punto su punto a punto basso, manca da lavorare un punto e mi manca da lavorare il secondo punto. Adesso cosa faccio? Semplicemente tolgo il marca punto, entro nella catenella e chiudo il giro con un punto bassissimo. Mi alzo con una catenella, prendo il marca punto, segno la catenella, entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Anche questo giro è come il precedente, quindi andrò semplicemente a lavorare punto su punto a punto basso. Mi devo ritrovare sempre con 70 punti. Poi voi regolatevi in base al numero di punti che avete. Nello stesso identico modo andrò a realizzare anche il giro successivo. Quindi ci rivediamo quando ho completato i tre giri. Ecco qui. Ho lavorato il primo, il secondo e il terzo giro punto su punto a punto basso. Adesso mi alzo con una catenella, due catenelle e tre catenelle che sostituiscono la prima maglia alta. Prendo il marca punto e segno la terza catenella. Quindi ricordatevi che le tre catenelle sostituiscono un punto alto. Adesso carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Ho già lavorato due punti alti. Carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Continuo così, lavorando per ogni punto alto, basso, scusate, sottostante, un punto alto, fino ad arrivare ad un totale di 23 punti alti. Ho lavorato 23 punti alti, comprese le tre catenelle. Dove mi sono fermata per chi ha un numero di catenelle diverso dal mio? Girate la scarpina in modo tale da avere la soletta davanti a voi e semplicemente vi fermate due punti alti prima del primo aumento. Come potete vedere qui ho l'aumento, io mi sono fermata due punti alti prima. E' veramente molto facile, è più difficile spiegarlo che farlo. Ok, dopo aver chiarito questo punto, posso continuare con la lavorazione. Carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e chiudo le prime due asoline. Lascio in sospeso queste due, carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e chiudo due asoline. Mi rimangono tre asoline sull'uncinetto. Adesso cosa faccio? Carico il filo e chiudo tutte e tre le asoline. In questo modo ho lavorato una diminuzione. Carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e chiudo le prime due asoline. Mi rimangono due asoline sull'uncinetto. Carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo, chiudo le prime due asoline. Mi rimangono tre asoline sull'uncinetto, carico il filo sull'uncinetto e le chiudo tutte e tre. In questo modo ho lavorato una seconda diminuzione. Nello stesso identico modo andrò a lavorare altre dieci diminuzioni. Quindi in totale devo lavorare dodici diminuzioni. Questo passaggio è uguale per tutte le taglie. Per quere. Grazie. Grazie. Rivedo lo stesso passaggio fatto all'inizio, ossia vado a lavorare 23 punti alti. Carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo punto alto, carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo punto alto e continuo così fino ad arrivare ad un totale di 23 punti alti. Se voi avete un numero di punti alti diverso dal mio, regolatevi in base a quelli che avete fatto prima. Ok, come potete vedere sono arrivata alla fine, adesso non mi resta altro da fare che chiudere il giro. Quindi tolgo il marca punto, entro nella terza catenella e chiudo il giro con un punto bassissimo. Adesso cosa faccio? Sfilo l'uncinetto dalla solina e metto al suo posto un marca punto. Tiro bene il filo fucsia e prendo il filato bianco. Adesso Riprendo l'uncinetto in mano e vi faccio vedere come procedere. Allora Vi faccio vedere su un punto a fianco, come potete vedere un punto è composto da due asoline. Bene, io questo giro lo andrò a lavorare in costa indietro, cosa vuol dire che devo prendere soltanto la solina di dietro. Quindi qui dove mi sono chiusa adesso con il punto bassissimo prendo soltanto la solina di dietro. Ok? Allora, con il filato bianco realizzo un cappietto, lo aggancio all'uncinetto, lo faccio passare attraverso la solina che ho preso, rientro nello stesso identico punto, Carico il filo sull'uncinetto, come potete vedere ho due asoline, sposto il filo iniziale in modo tale da bloccarlo e semplicemente chiudo le due asoline insieme. In questo modo ho lavorato un punto basso in costa indietro. Adesso tiro il filo iniziale e prima di continuare prendo un marca punto segno questo punto. Adesso entro nel punto successivo, anzi scusate, prima mi raccomando lasciate il filo Vuxia da parte. In quanto dopo aver lavorato il bianco lo andremo a riprendere. Quindi preferisco tenerlo in mano in modo tale che non mi dia fastidio. Cosa faccio? Entro nel punto successivo e lo prendo sempre in costa indietro, quindi prendo soltanto la solina di dietro. Una volta entrata nel punto cosa faccio? Lavoro un punto basso e nel frattempo mi nascondo anche il filetto bianco iniziale. Ecco qui, ho lavorato il secondo punto basso. Adesso entro nel punto successivo, lo prendo sempre in costa indietro e lavoro un nuovo punto basso. Mi raccomando, questo giro va lavorato tutto in costa indietro, quindi dovete prendere soltanto la solina di dietro. Lavoro un punto basso. Continuo così fino a lavorare un totale di 21 punti bassi. Ne ho già lavorati 3, quindi continuo fino ad arrivare al ventunesimo. Ho lavorato 21 punti bassi in costa indietro. Praticamente mi sono fermata 2 punti alti prima della prima riduzione nel giro di fucsia. Quindi per chi sta usando un numero di catenelle diverso dal mio, vi dovete fermare 2 punti alti prima della prima riduzione sul fucsia. Adesso carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro mezzo punto alto. Carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e chiudo le prime due asoline. Me ne rimangono 3, chiudo le 3 asoline insieme. Ecco qui ho fatto una diminuzione. Adesso entro nel punto successivo e lavoro una seconda diminuzione. Continuo così per un totale di 6 diminuzioni. Quindi in totale devo lavorare 6 diminuzioni. Questo passaggio è uguale per tutte le taglie. Una volta lavorata la sesta diminuzione, ripeto lo stesso passaggio fatto dall'altro lato, ossia lavoro mezzo punto alto, nel punto successivo mezzo punto alto e adesso lavoro 21 punti bassi. Voi regolatevi in base al numero che avete lavorato precedentemente. Come potete vedere sono arrivata alla fine. Ho lavorato tutto il giro in costa indietro, mi raccomando. Adesso tolgo il marca punto e chiudo il giro nella prima catenella con un punto bassissimo. Adesso mi alzo con una catenella, prendo il marca punto e la segno. Entro nel punto successivo e questa volta lo prendo intero, quindi non ho più bisogno di lavorare in costa indietro. E lavoro un punto basso. Ho lavorato due punti, la catenella e il punto basso. Adesso entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Continuo così, fino a lavorare un totale di 19 punti bassi, compresa la catenella. Ho lavorato i 19 punti bassi, mi sono fermata due punti bassi prima dei due mezzi punti alti. Quindi, per chi ha una taglia diversa, regolatevi così. Adesso entro nel punto successivo e lavoro mezzo punto alto. Entro nel punto successivo e lavoro mezzo punto alto. Adesso carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo che corrisponde al mezzo punto alto sottostante e chiudo le prime due asoline, carico il filo sull'uncinetto e entro nel punto successivo, chiudo le prime due asoline, carico il filo sull'uncinetto e chiudo insieme le tre asoline. In questo modo ho lavorato una diminuzione e sempre nello stesso identico modo andrò a lavorare altre quattro riduzioni. Quindi in totale lavoro cinque riduzioni. Ok, ho lavorato le cinque riduzioni, adesso cosa faccio? Carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro mezzo punto alto. Carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro mezzo punto alto. e adesso semplicemente lavoro i 19 punti bassi come all'inizio. Sono arrivata alla fine, cosa faccio? Tolgo il marca punto e chiudo il giro nella prima catenella con un punto bassissimo. Anche questo giro è terminato, la scarpina sta iniziando a prendere forma e io con il bianco sto iniziando a lavorare il finto calzino. Allora adesso mi alzo con una catenella, prendo il marca punto e la segno, entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Entro nel punto successivo e lavoro un punto basso e continuo così fino a lavorare un totale di 17 punti bassi. Ho lavorato 17 punti bassi, mi sono sempre fermata due punti bassi prima dei due mezzi punti alti. Adesso carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro mezzo punto alto. Carico il filo sull'uncinetto, lavoro mezzo punto alto. Adesso carico il filo sull'uncinetto e vado a lavorare una diminuzione. Carico il filo sull'uncinetto e vado a lavorare una seconda diminuzione. Adesso carico il filo sull'uncinetto e nel punto successivo lavoro un punto alto. Carico il filo sull'uncinetto e vado a lavorare una seconda diminuzione. Mezzo punto alto, mezzo punto alto e lavoro i 17 punti bassi proprio come ho fatto all'inizio del giro. Ecco qui, vedete? Lavoro 17 punti bassi, voi regolatevi sempre con il vostro numero di catenelle. Una volta arrivata alla fine cosa faccio? Tolgo il marca punto e chiudo il giro con un punto bassissimo nella catenella. Anche questo giro è terminato. Mi alzo con una catenella, prendo un marca punto e la segno. Entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Continuo così fino a lavorare un totale di 17 punti bassi. Ho lavorato 17 punti bassi e mi sono fermata prima dei due mezzi punti alti del giro sottostante. Quindi questo è sempre il vostro punto di riferimento se state lavorando una taglia diversa dalla mia. Adesso cosa faccio? Lavoro nel punto successivo un mezzo punto alto. Nel punto successivo lavoro un mezzo punto alto. Adesso carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo. Carico il filo, chiudo le prime due asoline sull'uncinetto, lascio in sospeso, carico il filo, entro nel punto successivo e chiudo le prime due asoline sull'uncinetto. carico il filo, entro nel punto successivo, chiudo le prime due asoline, adesso ho quattro asoline in sospeso sull'uncinetto e cosa faccio? Carico il filo e chiudo tutte e quattro le asoline insieme, in questo modo ho fatto una riduzione a tre adesso carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo, lavoro mezzo punto alto carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un secondo mezzo punto alto e adesso semplicemente lavoro 17 punti bassi proprio come ho fatto dall'altro lato quindi poi regolatevi sempre in base ai vostri punti una volta arrivata alla fine cosa faccio? tolgo il marca punto e chiudo il giro nella cadenella con un punto bassissimo ecco fatto come potete vedere ho praticamente chiuso tutto il davanti della scarpina adesso cosa faccio? mi alzo sempre con una cadenella, prendo il marca punto e la segno questo giro è molto semplice in quanto semplicemente vado a lavorare punto su punto a punto basso quindi entro nel punto successivo e lavoro un punto basso entro nel punto successivo e lavoro un punto basso e continuo così fino ad arrivare alla fine del giro quindi per chi sta seguendo una taglia diversa dalla mia dovete semplicemente lavorare punto su punto a punto basso nel mio caso andrò a lavorare 39 punti basso ok ho appena lavorato tutti i miei punti bassi adesso tolgo il marca punto entro nella cadenella e chiudo il giro con un punto basso adesso cosa faccio? mi alzo con 3 catenelle prendo il marca punto e segno la terza cadenella carico il filo sull'uncinetto entro nel punto successivo e lavoro un punto alto carico il filo sull'uncinetto entro nel punto successivo e lavoro un punto alto e semplicemente continuo a lavorare tutto il giro punto su punto a punto alto quindi devo rimanere sempre con lo stesso numero di punti alti se prima avevo 39 punti bassi adesso ne devo avere 39 alti ho appena lavorato il 39esimo punto alto adesso non mi resta altro che chiudere il giro quindi tolgo il marca punto entro nella terza catenella e lavoro un punto bassissimo adesso senza farvi vedere vi spiego come dovete continuare semplicemente lavorate il prossimo giro tutto punto su punto a punto basso e vi chiudete sempre nella prima catenella con un punto bassissimo lavorate un secondo giro di punto su punto a punto alto chiudete come ho appena fatto e lavorate un terzo giro punto su punto a punto basso chiudete sempre con un punto bassissimo ci rivediamo quando ho terminato i tre giri ok come potete vedere ho lavorato un giro di punto basso un giro di punto alto e un giro di punto basso tutto punto su punto quindi ho sempre lo stesso numero di punti adesso mi alzo con uno, due, tre catenelle prendo il marca punto e segno la terza catenella adesso cosa faccio carico il filo sull'uncinetto entro nel punto successivo e come vi ho spiegato prima il punto è formato da due asoline io entro soltanto nell'asolina dietro e lavoro un punto alto carico il filo sull'uncinetto entro nel punto successivo sempre prendendo soltanto l'asolina di dietro e lavoro un punto alto quindi andrò a lavorare tutto il giro punto su punto a punto alto soltanto che dovete lavorare in costa indietro mi raccomando dovete prendere soltanto l'asolina di dietro vi devono rimanere queste linguette che ci serviranno per lavorare il merletto ora io adesso continuo e ci rivediamo quando ho terminato il giro ok come potete vedere ho lavorato tutto il giro punto su punto a punto alto in costa indietro quindi dovete avere tutte queste linguettine che si vedono adesso non mi resta altro che chiudere il giro quindi tolgo il marca punto entro nella terza catenella e lavoro un punto bassissimo anche questo giro è terminato adesso mi alzo con una catenella prendo il marca punto e segno questa catenella e lavoro questo giro punto su punto a punto basso e questa volta i punti li prendo interi quindi entro nel punto successivo e lavoro un punto basso entro nel punto successivo e lavoro un punto basso continuo così fino alla fine del giro quindi vi dovrete ritrovare sempre con lo stesso numero di maglie ci rivediamo quando sono arrivata al marca punto ok ho terminato anche questo giro quindi tolgo il marca punto entro nella catenella e chiudo il giro con un punto bassissimo adesso adesso cosa faccio mi alzo con una catenella e questa volta non continuo a lavorare sempre dallo stesso verso come sono abituata a fare ma lavoro dal verso opposto quindi cosa faccio entro nel punto precedente dove si trova la catenella e lavoro un punto basso entro nel punto precedente e lavoro un punto basso in questo modo sto rifinando il calzino al punto gambero quindi entro nel punto precedente e lavoro un punto basso il giro continua così quindi lavorerete punto su punto a punto basso e ci rivediamo alla fine per farvi vedere come chiudere il tutto mi raccomando dovete entrare nel punto precedente ok sono arrivata alla fine del giro adesso vi spiego come chiudere cosa faccio allargo un pochino la solina e sfilo l'uncinetto entro nel primo punto basso che ho lavorato adesso rinfilo l'uncinetto all'interno dell'asolina la stringo bene e chiudo il giro con un punto basso adesso lavoro una catenella prendo la forbice e taglio il filo lasciando un pochino di filo in modo tale che dopo con l'aiuto di un ago o di un uncinetto lo posso bloccare stringo bene il tutto ed ecco qui ho terminato il finto calzino allora adesso cosa faccio riprendo il fucsia che ho lasciato in sospeso quindi tolgo il marca punto inserisco l'uncinetto e cosa faccio ripeto lo stesso identico passaggio che ho fatto con il bianco quindi piego la scarpina in modo tale da vedere bene tutti i punti lasciati in sospeso lavoro una catenella prendo un marca punto e la segno adesso cosa faccio entro nel punto successivo che è formato da una sola asolina quindi mi raccomando piegate il calzino in modo tale da avere le asoline fucsia a portata di mano entro nel punto successivo a quello dove ho lavorato la catenella e lavoro un punto basso entro nel punto successivo e lavoro un punto basso entro nel punto successivo e lavoro un punto basso e continuo così fino a lavorare un totale di 21 punti bassi per chi segue una taglia diversa dalla mia vi dovete fermare quando siede in corrispondenza dell'ultimo punto basso lavorato con il filato bianco ok ho lavorato i 21 punti basi adesso carico il filo sull'uncinetto entro nel punto successivo e lavoro mezzo punto alto carico il filo sull'uncinetto entro nel punto successivo e lavoro mezzo punto alto carico il filo sull'uncinetto entro nel punto successivo e lavoro una diminuzione ripeto ripeto lo stesso passaggio per un totale di 5 diminuzioni quindi compresa la prima che ho già fatto dovrò avere un totale di 6 diminuzioni ok ho lavorato le 6 diminuzioni adesso cosa faccio carico il filo sull'uncinetto entro nel punto successivo lavoro mezzo punto alto carico il filo sull'uncinetto entro nel punto successivo lavoro mezzo punto alto e adesso semplicemente lavoro 21 punti bassi quindi lavoro il resto dei punti tutto a punto basso continuo così fino ad arrivare al marca punto sono arrivata alla fine ho tolto il marca punto adesso giudo il giro con un punto bassissimo nella catenella come potete vedere ho ripetuto lo stesso passaggio fatto con il filo lato bianco adesso mi alzo con una catenella che segno con il marca punto e questo giro semplicemente andrò a lavorare punto su punto a punto basso quindi entro nel punto successivo e lavoro un punto basso e questa volta i punti li prendo interi entro nel punto successivo e lavoro un punto basso entro nel punto successivo e lavoro un punto basso e continuo così per il resto del giro come potete vedere ho ripassato tutto il giro a punto basso sono arrivata alla fine adesso cosa faccio tolgo il marca punto entro nella catenella e chiudo il giro con un punto bassissimo faccio una catenella taglio il filo non ne lascio troppo perché dopo lo inserisco nella lavorazione sfilo l'uncinetto tiro bene il tutto ecco qui la scarpina è formata allora adesso prima di continuare di farvi vedere cosa fare per lavorare il cinturino cosa faccio vado a ripassare la soletta con il bianco quindi piego la scarpina in questo modo prendo il filato bianco prendo sempre lo stesso uncinetto e cosa faccio vedete qui dove ho lavorato quel giro prendendo i punti dall'interno e poi dall'esterno e poi ho lavorato il punto basso io devo entrare all'interno di questi punti e agganciarmi con l'uncinetto quindi inserisco il filo bianco mi raccomando spostate il filetto iniziale in modo tale che lo bloccate poi all'interno della lavorazione e lavoro una catenella per assicurare il filo adesso sposto il filetto iniziale per continuarlo a bloccare e lavoro una catenella sposto sempre il filetto iniziale e cosa faccio entro nel punto successivo e lavoro un punto bassissimo questi punti questi punti comunque li riconoscete perché sono quelli corrispondenti al giro lavorato dopo i due giri di punto basso della soletta adesso lavoro una catenella entro nel punto successivo e lavoro un punto bassissimo adesso lavoro una catenella entro nel punto successivo e lavoro un punto bassissimo quindi questo giro è molto semplice in quanto continuerò a lavorare una catenella e nel punto successivo un punto basso catenella e punto successivo punto basso continuo così fino alla fine del giro ok come potete vedere sono arrivata a fine del giro ho lavorato l'ultimo punto bassissimo e catenella adesso cosa faccio entro nel punto in cui mi sono agganciata con il bianco quindi nella prima catenella che ho lavorato e chiudo il giro con un punto bassissimo adesso lavoro una catenella taglio un pezzo di filo abbastanza lungo sfilo l'uncinetto tiro bene il filo bianco e ho ripassato la mia scarpina dopo con l'ago con l'uncinetto più piccolo quando vado a nascondere vado a nascondere tutti questi fili allora nello stesso identico modo ho lavorato anche l'altra scarpina come potete vedere adesso vado a segnare i punti in cui terminare la lavorazione per creare il cinturino quindi considerando il secondo giro lavorato di fucsia salto l'ultimo aumento lavorato salto due mezzi punti alti ed infine salto uno due tre punti bassi e nel quarto punto basso inserisco un marcapunto adesso giro la scarpina e ripeto lo stesso passaggio quindi sempre considerando il secondo giro di fucsia lavorato salto l'ultimo aumento salto i due mezzi punti alti salto tre punti bassi e nel quarto punto basso inserisco un marcapunto poi se contate i punti che vi rimangono dalla chiusura al primo marcapunto noterete che sono gli stessi che vi mancano dal punto in cui ho fatto la chiusura fino all'altro marcapunto nello stesso identico modo realizzo anche l'altra scarpina adesso cosa faccio prendo il filato fucsia e vado a lavorare dal rovescio del lavoro quindi dalla parte tra il calzino bianco e la scarpina fucsia tolgo il marcapunto inserisco l'uncinetto lì dove avevo il marcapunto e aggancio l'uncinetto al filato fucsia in questo modo adesso sposto la codina iniziale per bloccarla e lavoro una cadenella tiro bene il filo e cosa faccio? rientro nello stesso identico punto e lavoro un punto basso adee entro nel punto successivo e lavoro un punto basso entro nel punto successivo e lavoro un punto basso entro nel punto successivo e lavoro un punto basso e mano a mano inserisco anche il filo iniziale per nasconderlo inoltre prendo il marca punto e marco il primo punto basso che ho lavorato per ricordarmi che lì inizia il mio giro adesso continuo a lavorare fino ad arrivare all'altro marca punto tutto a punto basso e mi raccomando non vi dimenticate di inserire anche questo filetto noi ci rivediamo quando sono arrivata all'altro marca punto ok come potete vedere ho lavorato tutto il giro a punto basso mi raccomando lo dovete lavorare dalla parte interna e sono arrivata dove c'era l'altro marca punto adesso cosa faccio? mi alzo con 20 catenelle una volta fatte le 20 catenelle come potete vedere ho la lunghezza giusta per creare il cinturino adesso prendo il metro e vi dico con esattezza quanto misurano allora le 20 catenelle misurano 6 centimetri e mezzo quindi se state facendo una taglia più piccola o più grande fate qualche catenella in più o in meno adesso mi alzo con 4 catenelle e carico il filo sull'uncinetto conto 1 2 3 4 entro nella quinta catenella e lavoro un punto alto in questo modo ho creato un forellino dove andrò a chiudere il cinturino quindi prendo la perla che ho intenzione di usare come bottoncino e verifico che il forellino che ho creato vada bene come potete vedere la perla entra perfettamente quindi questa misura per me va bene voi regolatevi anche in base alle perle che avete intenzione di utilizzare allora adesso lavoro una catenella carico il filo sull'uncinetto salto il punto successivo a quello dove ho lavorato il punto alto entro in quello dopo ancora e lavoro un punto alto in questo modo ho creato un altro forellino dove far passare la perla cadenella salto un punto entro in quello successivo e lavoro un punto alto ho creato un altro forellino per chiudere il cinturino adesso carico il filo sull'uncinetto e semplicemente percorro tutta la catenella a punto alto quindi entro nel punto successivo punto alto carico il filo sull'uncinetto entro nel punto successivo e lavoro un punto alto come potete vedere manca l'ultima catenella da lavorare carico il filo sull'uncinetto entro in quest'ultima catenella e lavoro un punto alto il cinturino è pronto adesso non mi resta altro che terminare la scarpina quindi la giro in questo modo carico il filo sull'uncinetto entro nel primo punto basso disponibile e lavoro un punto alto carico il filo sull'uncinetto entro nel punto successivo e lavoro un punto alto carico il filo sull'uncinetto entro nel punto successivo e lavoro un punto alto continuo a lavorare punto su punto a punto alto fino ad arrivare al punto prima del marca punto quindi mi raccomando punto su punto a punto alto e vi fermate nel punto prima del marca punto noi ci rivediamo qui e vi faccio vedere come terminare il giro come potete vedere ho lavorato tutto punto su punto a punto alto adesso cosa faccio tolgo il marca punto carico il filo sull'uncinetto entro nel punto e lavoro un mezzo punto alto cadenella prendo la forbice e taglio il filo mi raccomando lasciatene un pochino di più per non avere problemi quando lo andate a nascondere adesso tiro bene il filo e ho terminato il giro come potete vedere ho il cinturino eccolo qui dopo sulla parte fucsia andrò ad applicare una perlina lascio all'incirca due punti poi regolatevi anche a seconda della lunghezza del vostro cinturino e questo è l'effetto che avrò adesso cosa faccio? ripeto lo stesso passaggio sull'altra scarpina quindi dopo aver segnato con il marca punto i due punti dove far terminare il lavoro e dopo aver lavorato il giro dalla parte del rovescio in questo modo a punto basso proprio come ho fatto per l'altra scarpina cosa faccio? devo andare a lavorare il giro del cinturino logicamente deve essere opposto rispetto a quello di prima quindi cosa faccio? lavoro una catenella giro il lavoro in modo tale da ritrovarmi dalla parte del dritto carico il filo sull'uncinetto entro nell'ultimo punto lavorato e lavoro mezzo punto alto quindi a differenza di prima adesso non lavoro le catenelle ma lavoro in questo modo adesso carico il filo sull'uncinetto entro nel punto successivo e lavoro un punto alto carico il filo sull'uncinetto entro nel punto successivo e lavoro un punto alto carico il filo sull'uncinetto entro nel punto successivo e lavoro un punto alto semplicemente continuo a lavorare punto su punto a punto alto fino ad arrivare al punto dove c'è il marca punto quindi adesso continuo ci rivediamo direttamente lì come potete vedere sono arrivata al punto dove c'è il marca punto e ho lavorato tutto appunto su punto a punto alto adesso cosa faccio tolgo il marca punto carico il filo sull'uncinetto entro in quest'ultimo punto e lavoro un punto alto adesso sono arrivata alla fine cosa faccio carico 20 catenelle ossia lo stesso numero di catenelle che ho caricato per l'altra scarpina una volta lavorate le 20 catenelle mi alzo con 1 2 3 4 catenelle carico il filo sull'uncinetto conto 1 2 3 4 entro nel quinto punto e lavoro un punto alto in questo modo sto creando il forellino che ho creato anche dall'altra parte cadenella salto un punto di base entro in quello successivo lavoro un punto alto cadenella carico il filo sull'uncinetto salto un punto di base entro nel punto successivo e lavoro un punto alto ho creato i due forellini che ho creato anche sull'altro cinturino e adesso non mi resta altro che lavorare tutto il resto della catenella punto su punto a punto alto ok come potete vedere sto lavorando l'ultima catenella disponibile e sono arrivata nel punto in cui c'è il punto alto del giro cosa faccio adesso mi devo agganciare in modo tale da bloccare il cinturino come potete vedere sotto al punto alto ho un punto basso io entro sotto il punto basso quindi nel giro e vedete nel giro precedente e cosa faccio entro sotto il punto basso e lavoro un punto bassissimo in questo modo mi sono agganciata spero di essermi spiegata bene adesso lavoro una catenella prendo la forbice e taglio il filo sfilo l'uncinetto tiro bene il filo e come potete vedere il cinturino è diventato un tutt'uno con il resto del giro lato opposto andrò ad applicare una perlina adesso non mi resta altro che lavorare il merletto del calzino quindi come potete vedere qui ho le linguette che sono rimaste quando ho lavorato il giro di punto alto in costa indietro infilo l'uncinetto e vi faccio vedere eccola qui vedete cosa faccio entro nel punto in cui ho sempre lavorato la giusura del giro e inserisco l'uncinetto proprio dove c'è questa asolina adesso riprendo il filato bianco aggancio l'uncinetto faccio passare il filato attraverso l'asolina prendo il filetto iniziale lo faccio passare in questo modo lavoro una catenella tiro il filetto iniziale in questo modo mi sono agganciata questo primo punto che ho lavorato è da considerare proprio come un punto della lavorazione adesso prendo il filo iniziale lo sposto nel lato opposto e lavoro una seconda catenella quindi ho 1 e 2 catenelle prendo il filo lo giro sempre dal lato opposto e lavoro una terza catenella in questo modo vado a bloccare anche il filo iniziale lo faccio passare dal lato opposto e lavoro una quarta catenella lo faccio passare dal lato opposto e lavoro una quinta catenella quindi in totale ho lavorato 4 catenelle più il punto di quando mi sono agganciata che corrisponde sempre ad un punto di lavorazione adesso salto il punto in cui mi sono agganciata conto 1, 2, 3 punti di base entro nel quarto prendendo sempre e solo la linguetta lasciata in sospeso e cosa faccio? lavoro un punto basso e mi raccomando non vi dimenticate di inserire anche il filo iniziale in questo modo ho creato un archetto eccolo qui, composto da 4 catenelle più il punto iniziale di aggancio che corrisponde ad un punto basso adesso cosa faccio? lavoro 4 catenelle 1, 2, 3 e 4 piego il calzino in questo modo conto 1, 2, 3 punti entro nel quarto e lavoro un punto basso in questo modo ho creato un secondo archetto adesso lavoro 4 catenelle salto 3 punti di base entro nel quarto punto e lavoro un punto basso in questo modo continuo a lavorare il resto del giro fino ad arrivare al penultimo archetto e vi faccio vedere poi come concludere il giro come potete vedere ho lavorato il resto del giro in archetti quindi ho fatto 4 catenelle salto 3 punti di base punto basso e adesso sono arrivata alla fine come potete vedere qui mi mancano 4 punti di base quindi devo fare una piccola modifica rispetto al resto del giro e cosa faccio? semplicemente anziché lavorare 4 catenelle come ho fatto fino ad esso vado a lavorare 5 catenelle 1, 2, 3, 4 e 5 adesso non mi resta altro da fare che chiudere il giro quindi entro nel primo punto lavorato ossia il punto con cui mi sono agganciata e cosa faccio? chiudo il giro con un punto bassissimo quindi questo giro è molto semplice ho semplicemente fatto quella piccola modifica per non far restringere il calzino adesso cosa faccio? entro nell'archetto questo qui e lavoro un punto bassissimo adesso faccio una catenella rientro nello stesso identico punto quindi nell'archetto e lavoro un punto basso prima di continuare prendo il marca punto e mi segno questo punto basso adesso cosa faccio? lavoro una catenella carico il filo sull'uncinetto entro nell'archetto successivo questo e lavoro un punto alto ok? adesso cosa faccio? catenella carico il filo sull'uncinetto rientro sempre nello stesso archetto e lavoro un secondo punto alto catenella carico il filo sull'uncinetto rientro sempre nello stesso archetto e lavoro un terzo punto alto catenella carico il filo sull'uncinetto rientro sempre nello stesso archetto e lavoro un quarto punto alto catenella carico il filo sull'uncinetto rientro sempre nello stesso archetto e lavoro un quinto punto alto catenella rientro sempre nello stesso punto e lavoro un sesto punto alto catenella rientro sempre nello stesso punto e lavoro un settimo punto alto come potete vedere ho lavorato un archetto di 7 punti alti separati da una catenella adesso lavoro una catenella entro nell'archetto successivo e lavoro un punto basso adesso catenella entro nell'archetto successivo e ripeto l'archetto di 7 punti alti separati da una catenella quindi punto alto catenella punto alto catenella fino ad arrivare ad un totale di 7 punti alti ok una volta terminato l'archetto di 7 punti alti separati da una catenella lavoro una catenella entro nell'archetto successivo e lavoro un punto basso adesso semplicemente continuo a lavorare così il giro alternando i 7 punti alti separati da una catenella con un archetto di punto basso allora come potete vedere ho continuato a lavorare tutto il giro alternando l'archetto di 7 punti alti separati da una catenella con l'archetto di punto basso sono arrivata all'ultimo che è proprio l'archetto dei punti alti adesso lavoro una catenella e cosa faccio? tolgo il marca punto e semplicemente chiudo il giro nel punto basso con un punto bassissimo come potete vedere ho terminato anche questo secondo giro vedete? il merletto non fa difetto quindi sto lavorando bene e adesso cosa faccio? vado a lavorare l'ultimo giro allora io adesso mi trovo nel punto basso cosa faccio? entro nel primo punto alto disponibile dell'archetto successivo e lavoro un punto bassissimo adesso entro nello spazio tra il primo punto alto ed il secondo punto alto vedete? e lavoro anche qui un punto bassissimo adesso mi alzo con una catenella carico il filo sull'uncinetto e vado a lavorare un punto buff cosa faccio? entro nello spazio tra i due punti alti tiro un pochino il filo lo ricarico sull'uncinetto tiro un pochino il filo ricarico il filo sull'uncinetto tiro un pochino ho 7 asoline sull'uncinetto chiudo le prime 6 mi rimangono due asoline adesso cosa faccio? carico il filo sull'uncinetto e chiudo queste ultime due asoline ecco qui ho lavorato un punto puff prendo il marca punto e segno il punto puff e cosa faccio? lavoro due catenelle carico il filo sull'uncinetto e nello spazio tra il secondo e il terzo punto alto dell'archetto sottostante vado a lavorare un punto puff quindi entro tiro il filo e carico il filo rientro nello spazio tiro il filo carico il filo rientro nello spazio tiro il filo ho 7 asoline sull'uncinetto chiudo le prime 6 mi rimangono due asoline chiudo le ultime due ed ecco qui un punto puff adesso continuo lavorando due catenelle e nello spazio tra i due punti alti successivi lavoro un nuovo punto puff due catenelle nello spazio tra i due punti alti successivi lavoro un nuovo punto puff due catenelle nello spazio tra i due punti alti successivi lavoro un nuovo punto puff 2 catenelle e nello spazio tra i 2 punti alti successivi lavoro un nuovo punto puff in totale ho lavorato 6 punti puff separati da 2 catenelle adesso lavoro 2 catenelle, entro, salto l'ultimo punto alto, il punto basso e il primo punto alto quindi entro tra il primo e il secondo punto alto dell'archetto successivo e lavoro un punto puff adesso continuo a lavorare tutto il giro nel seguente modo ossia in ogni spazio nell'archetto dei punti alti lavoro un punto puff in totale dovrò avere 6 punti puff separati da 2 catenelle e 2 catenelle ricomincio con gli altri archetti come potete vedere ho continuato a lavorare il giro di punti puff e questo è il risultato quindi per ogni archetto di punti alti separati da una catenella ho lavorato un punto puff separato da 2 catenelle e poi quando sono arrivata all'ultimo punto puff ho lavorato 2 catenelle ho ricominciato con l'archetto di punti puff separati da 2 catenelle siete sicuri di non sbagliare se vi ritrovate sempre con 6 punti puff per ogni archetto adesso non mi resta altro che chiudere il giro e cosa faccio? lavoro 2 catenelle tolgo il marca punto e chiudo il giro nel punto puff con un punto bassissimo adesso ho terminato il pizzo quindi non mi resta altro che lavorare una catenella tagliare un bel pezzo di filo sfilare l'uncinetto tirare il filo ed ecco qui la scarpina è terminata allora adesso per non rendere il video troppo lungo non vi faccio vedere come lavorare l'altra scarpina perché semplicemente dovete ripetere sempre lo stesso identico passaggio quindi il pizzo è uguale in tutte e due le scarpine in realtà tutti i passaggi sono uguali tranne quello del cinturino che vi ho fatto vedere adesso vado a nascondere con l'ago con un uncinetto più piccolo tutti i fili lasciati in sospeso sia di questa scarpina che dell'altra e qui prendendo solo la parte fucsia vado a coscire una berlina e lo stesso discorso vale anche per l'altra scarpina ok una volta finite ci rivediamo così ve le faccio vedere come potete vedere le scarpine sono pronte io adesso ho inserito un pochino di ovatta per farvi vedere bene il risultato ho montato le due berline e vedete i cinturini sono chiusi e messi in lati opposti ho nascosto tutti i fili ho questo merletto che è veramente grazioso e carino quindi spero di essermi spiegata bene sia per come realizzare la scarpina sia da un punto di vista di spiegazione di taglie diverse se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un like se non siete iscritti al mio canale fatelo mi raccomando attivate anche la campanella per rimanere sempre aggiornati e se realizzate le scarpine mandatemi qualche foto dei vostri lavori attraverso i miei canali social di cui trovate contatti in descrizione in particolare ho tiktok pinterest ed instagram io adesso vi saluto e ci vediamo la prossima volta con un nuovo progetto ciao ciao